I tifosi, quelli residenti in Argentina e quelli giunti qui con l'Italia, ne hanno piena coscienza. Tempo alla destra dei nostri teleschermi. E in Ungheria è la seconda volta che si incontrano in una competizione mondiale. Il ricordo è per noi famosi. I zombori rimette al centro un bel pallone che prende Rossi. E così non è rimesso in gioco da parte. Ecco il cross di Rossi. Colpo di testa di Mettega. Era in grado di tirare anche Tardelli. Colpo di testa di Mettega e palla sul fondo. Riesce a mantenere la palla in campo e a saltare anche Tardelli che interviene a gamba tesa. C'è il fischio dell'arbitro. Interposizione della destra. Ecco il cross. Mancato dal... Fajekas. Fajekas. Ha tirato... Azione perfetta di Nagy. Che però conclude alto sulla traversa per nostra fortuna. Ha seminato i difensori. Ecco li vediamo Nagy. La sua bella ha sfermato da Benetti. Antognoni. Fallo su... Ha tirato Causio alto. Manda al centro Caprini. Un fallone alzato da... Ribattuto il tiro. Fajekas con Zabo. C'era il fuorigioco. Cenno d'intesa con il suo collaboratore. Ehi. Ecco il cross. Deve uscire Zoff. Dopo una deviazione di Fajekas. Ce n'è un'altra di Zabo. E la palla a piedi di questo insidioso, di questa insidiosa ala. Velocissimo. Il cross è altissimo. Esce Zoff e para. Ecco che arriva anche Koshis. Shirea. Sul rinvio riprende ancora Causio. Nuovo cross di Causio. Pettega. La palla è sul fondo. Il cross è di top. C'è il colpo di... Tardelli. Nuovo cross. Bellissimo. Il tiro al volo di Causio. Con il corpo il portiere Devea in calcio d'angolo. Pettega. Venetti. Calcio d'angolo della partita. Conto di Causio. Rovesciata volante di Causio. Bello il palleggio di Causio. Deve arrivare. È suo questo cross. Tardelli. Rossi. È gol. Tiro di Tardelli. C'è una deviazione della difesa. Parada imperfetta di Baljaros. Arriva Rossi. E l'Italia è in vantaggio. Paolo Rossi. Pettega. Due. Due. Un doppio di Pettega. Raddoppio di Pettega che si è lanciato molto bene in mezzo alla difesa avversaria. Pettega. Veloce il contropiede ungherese. Tutto di prima. Tardelli. Tiro al volo di Martos. Un fallo di mano abbastanza netto. ma che l'arbitro ripetiamo o non ha visto o ha giudicato in voce. Fermato. Che recchi. Vi dicevo. Alas. Numero. Doppio pallo. Doppio pallo di Martos su Pettega. di Caprini. E lancia per causio lunghissimo. Va ad agganciare. Tardelli si è rallungato troppo il pallone. Benetti. Pettega. Traversa. Benetti. Ancora alto. Bellissimo scambio. Benetti. Pettega. Traversa di Pettega. Poi ancora. Colpo di testa di Rossi. Verso Caudio. Tiro di Josef Tott. Rossi. Benetti. Tre. Benetti. Ha risolto Benetti. Dal limite. Benetti. Terzo gol. Incontenibile. Sulla destra. Il suo cross. Al centro. Bettega. Di testa. Parata. Bellissima. Bettega. Fallo. Su Bettega. Fallaggio. Stavolta. Di Martos. E infatti c'è la punizione per Martos. Bettega. Di Bettega. Di Bettega. Di Bettega. Battuta. La punizione. Bettega. Tiro. Di Bettega. Contraversa. Terza traversa di Bettega. Colpo di testa di Rossi. E il quartiere. Rina probazia. Teria in calcio d'angolo. E la terza traversa di Bettega in questa partita. Sì la riporta in avanti. Zombori. Sul lancio di profondità. Ancora Zombori. Zombori. Di un giocatore ungherese che ha mandato a terra Caprini che è rimasto a terra mentre l'azione è elaborata viene... Porta la palla davanti. Arrossi. Rossi. Fermato ancora Rossi. Esce il quartiere e blocca sui piedi di Rossi. Ha tirato molto bene Andrea Stott. Pallone ad effetto. Tardelli. Cross di Tardelli. Causio molto bello. Cross di Causio. Colpo di testa. Antonioni. Fortissimo ma alto sulla traversa. Mette adesso. De Arzotte fa entrare. Il rinvio è di Bellugi. Calcio di rigore. Calcio di rigore. E segna Andrea Stott. Quello che aveva mancato le azioni precedentemente. Andrea Stott gli ha tolto la palla. E dalla parte... Rossi scambio con Gentile che riceve una spallata da parte di Pussai. Calcio di punizione. C'è un calcio d'angolo. Causio. Tiro di Antonioni. Dopo... Tardelli. Tiro di Tardelli. Respinge a pugni chiusi. Il portiere. L'insidioso tiro di Tardelli. Masa rossa sul tiro di Tardelli. E con questo calcio d'angolo... è un problema. Un calcio di Tardelli. Ma un po' di Tardelli. Chiaimillà. Questa.